ora 50 anni dopo mi accorgo che quello di cui parlava Deepak e che quando prendi quel seme di pomodoro e lo metti sotto il microscopio troverai molecole, spazi vuoti, atomi, neutroni, protroni e prostrini e tutte queste cose con quei nomi strani ma più di tutto è spazio vuoto elettroni e se prendi gli elettroni e guardi bene sono spazi vuoti e allora cerchi e trovi le particelle subatomiche per scoprire che è spazio vuoto e cerchi per sapere da dove arriva il pomodoro, dov'è la fonte e quando arrivi la più piccola delle particelle sub 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 atomiche le metti in un acceleratore di particelle, aumenti la velocità di movimento, le fai scontrati di loro e alla fine ti accorgi che non c'è nulla lì dentro, non c'è nulla lì e la cosa più strana è che quando guardi queste cose esse cambiano, l'osservatore ha veramente un effetto sul processo di creazione ora prendi lo stesso seme che ha dato inizio a te, tu pensavi di essere il risultato di un picnico quantico nove mesi prima della nascita, prendi il seme che hai incominciato te stesso e fai lo stesso esperimento, osservi con microscopi sempre più potenti e pensa cosa scopri, pensa dove vieni, dal nulla, dal niente, la fonte in India parlano di queste persone che abbiamo nominato, persone come Gesù o Buddha, grandi maestri spirituali che loro chiamavano esseri non doppi in qualche modo sono andati oltre il dualismo del mondo fisico non avete mai visto una persona che ha un davanti ma non ha un retro, giusto? qualcosa che ha un dentro e non ha un fuori, tutto nel mondo fisico è il suo opposto per andare oltre il mondo fisico bisogna entrare nel mondo dove non c'è dualismo è quello che è l'equivalente matematico del numero zero zero è il numero che non puoi dividere, c'è solo uno zero zero e l'equivalente di zero è il silenzio e il silenzio è il posto dove si va ricordate, diciamo, c'è solo una voce, quella del silenzio quando andate nel silenzio andate letteralmente in un luogo dove non si può più dividere e lì si fa un contatto cosciente, consapevole ecco perché il meditare, l'essere tranquilli scoprire quel posto dentro di noi che non può essere diviso è letteralmente la fonte del manifestare e non importa dove andate ho parlato con il mio amico Deepak molte volte quando c'è qualcosa che mi preoccupa sapete cosa mi dice? medita, medita Wayne poi chiamo Rida sapete cosa mi dice? medita le dico Rida, ho dei problemi con uno dei miei figli e lei risponde medita, giusto Rida? ma la verità è che mi dicono scomponi l'illusione del tuo essere diviso che è quello che la meditazione fa e fai un contatto cosciente quando lo farai scoprirai la luce di cui parlavi ecco perché la meditazione non è qualcosa che fai per avere una vita pacifica è qualcosa che fai per avere un contatto cosciente con il processo di creazione e incominciare a manifestare c'è un'espressione vedica che dice in ogni seme c'è la promessa di mille foreste e più in ogni seme c'è la promessa di mille foreste e più meditare è l'abilità di andare oltre il pensiero l'abilità di pensare come un essere straordinario e ancora più straordinaria è l'abilità di non pensare mi piacerebbe finire la sessione di stasera con una citazione di Kafka che quando parlò di meditazione disse non devi fare nulla rimani tranquillo rimani seduto tranquillo al tuo tavolo e il mondo si offrirà liberamente a te per essere smascherato non ha scelta si rotolerà in estasi ai tuoi piedi grazie e che Dio vi benedita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti